Ciao amici di Tech.it, guardate qui quanti smartband e anche smartwatch ho. Ne ho ben tre, Amazfit Peace, Amazfit Arc e Mi Band 2. Noi in questo video andiamo a vedere il prodotto realizzato dalla collaborazione tra Xiaomi e Wami. Amazfit Arc, ma perché vi faccio vedere anche questi due smartwatch e smartband? Beh perché hanno qualcosina in comune. Lo vediamo meglio però dopo la intro, eccola. Chi non si ricorda del vecchio Mi Band 2 con il suo nuovo schermino OLED da 0,42 pollici e con il tastino soft touch che si andava a premere per andare a cambiare scheda? Ebbene, Amazfit Arc offre anche lui le stesse funzionalità seppur sotto un disferente design. Andiamo a vedere velocemente che cosa include al suo interno la confezione di vendita di Amazfit Arc. Troviamo naturalmente la nostra smartband, un cavo a USB A per la ricarica con due pin magnetici e manualistica varia. Ora la sgancio un attimo dal mio polso così riesco a spiegarvi meglio un po' il tutto. Troviamo una scocca realizzata in alluminio, particolarmente resistente a urti e graffi e troviamo il vetro anteriore, anch'esso molto resistente e assolutamente molto più spesso rispetto al vetro che troviamo su Mi Band 2. Lo schermo di conseguenza si trova più in fondo all'interno del dispositivo e dato che ha una protezione comunque contro il raggio UV, questo farà sì che la luminosità si abbassi ulteriormente. Possiamo identificare questa nuova smartband come una versione aggiornata, corretta, premium se vogliamo, di quella che era una volta Mi Band 2. Seppur presenti anche questa nuova smartband alcune pecche, ad esempio con Mi Band 2 potevamo cambiare il cinturino, infatti vedete che il cinturino della Mi Band 2 che io ho al polso è cambiato, non è quello originale in TPU. Invece per quanto riguarda ARC non sarà possibile rimuovere il cinturino che c'è presente di default, quindi se si rompe, se si spezza nel peggiore delle ipotesi o se semplicemente volete cambiarlo non potrete farlo perché appunto è innestato all'interno del dispositivo, quindi vi si rompe il cinturino dovrete buttare via tutto e comprare una nuova unità. Questo è assolutamente poco agevole. Se non altro il cinturino è tutto sommato non è particolarmente elastico, è elastico il giusto, anche lui piuttosto resistente agli urti e ai graffi, dunque un bracciale piuttosto resistente alle sollecitazioni meccaniche che però in alcuni casi potrebbe risultare poco traspirante, quindi potrebbe farvi sudare eccessivamente in alcuni casi o potrebbe crearvi dei rossori non voluti. Lo chassis di ARC è leggermente curvo, questo per consentire una migliore ergonomia una volta che lo andrete ad assicurare al vostro polso comunque troviamo un cambiamento radicale di design perché comunque Mi Band 2 era una sorta di capsula che andavate a mettere, togliere, mettere, togliere all'interno del cinturino e questo poteva causare un degradamento dello chassis della vostra Mi Band 2 piuttosto precoce infatti vedete che anche il mio è piuttosto rovinato, cosa che invece qui non accade però abbiamo altre problematiche, tutte quelle che vi ho detto precedentemente. Parliamo un po' ora di hardware, al suo interno dispone di una memoria pari a 8 MB quindi sarà in grado di memorizzare tutti i dati raccolti dai vari sensori per qualche giorno dopodiché però cosa dovrete fare? Dovrete collegarlo al vostro smartphone tramite Bluetooth e utilizzare l'app Mi Fit scaricabile gratuitamente per Android e iOS per andare a sincronizzare con il vostro account Xiaomi tutti i vari dati, le vostre statistiche eccetera dispone poi di 128 KB di RAM il necessario per eseguire tutte le varie schedine per aggiornare i contenuti eccetera dispone di protezione IP67 contro acqua e polvere e lo potete immergere quindi in acqua per un periodo di tempo limitato fino ad una determinata profondità mi pare che il massimo sia un metro dopodiché lo dovrete tirare fuori per non rischiare che si danneggi il dispositivo dispone poi di Bluetooth 4.0 naturalmente per scambiare dati da e verso lo smartphone tramite l'app Mi Fit per sincronizzare il tutto frontalmente come vi avevo già accennato c'è il piccolo display OLED da 0,42 pollici monocromatico quindi di colori la colorazione sarà bianca quindi o bianco o nero e sotto di esso sotto questo piccolo display ci sarà una superficie touch che andando a premere a effettuare appunto un tocco andrà a cambiare scheda per quanto riguarda il sensore dei battiti andiamo a vedere subito sul retro è posizionato esattamente al centro sensore ottico dalla stessa non precisione di Mi Band 2 perché comunque in alcuni casi è in grado anche di misurare il battito cardiaco dell'aria ossia quando non è presente un polso al di sotto della Smart Band buono il feedback della vibrazione quando vi arriverà una chiamata un sms una notifica suonerà la sveglia vibrerà in modo talmente forte che è impossibile non sentirlo mettiamo ora da parte il piccolo arc e andiamo a vedere un attimino l'applicazione Mi Fit che tutto sommato è molto completa perché offre veramente una marea di impostazioni funzionalità schede sezioni il problema è che è molto incasinata è disordinata da matti quindi dovrete un po' armeggiare con questo software e capire un attimino come funziona in soldoni perché comunque non riesco a spiegarvi tutto esattamente nel dettaglio perché è veramente molto complicato, complesso troviamo tre schede principali, stato, attività e profilo che sono presenti in basso su stato potrete vedere i passi compiuti, le calorie bruciate, i chilometri percorsi per quanto riguarda la precisione dei passi ho fatto una prova con tutti e tre i dispositivi quindi Amazfit Arc, Mi Band 2 e Amazfit PIS devo dire che il PIS a volte tende a segnare qualche passetto in più però non dimenticate che il PIS a differenza di Mi Band 2 e di Arc dispone anche del GPS quindi quando andate ad effettuare varie attività come può essere una camminata, una biciclettata o quello che volete con il GPS integrato risulterà molto più preciso invece Arc si appoggia appunto al GPS dello smartphone dal punto di vista precisione non è esattamente il top è giusto per avere un'idea dei passi e della distanza compiuta tornando alla nostra app ci saranno grafici dovunque quindi anche qui grafici dei vari passi suddivisi giorno per giorno potete anche impostare voi come visualizzare il tutto stimerà tutte le medie mensili, le medie giornaliere i vostri obiettivi se li avete raggiunti o no quindi molto completato da questo punto di vista frequenza cardiaca anche qui una cosa che purtroppo non ho apprezzato è che non c'è un effettivo grafico per la frequenza cardiaca ma ci sono semplicemente tutti i valori messi in colonna cosa che a volte potrebbe risultare piuttosto scomoda potete monitorare naturalmente il vostro peso vi dirà se siete sotto peso, sovrappeso eccetera e una cosa bella che comunque abbiamo sempre trovato anche su Mi Band è la rilevazione del sonno che suddividerà tra l'altro tra sonno leggero e sonno pesante e funziona molto bene, funzionava molto bene su Mi Band 2 e su Amazfit Arc non funziona assolutamente da meno non so esattamente come funzioni questo algoritmo fatto sta che risulta piuttosto preciso andiamo avanti perché sotto attività potete avviare una corsa all'aperto tapiru lan, ciclismo all'aperto oppure una semplice camminata era questa diciamo la sezione incriminata di cui vi ho indirettamente parlato precedentemente quando vi ho accennato del GPS che appunto Arc non dispone di un modulo GPS integrato ma appunto si appoggerà il GPS del telefono tramite questa sezione potrete avviare un'attività e l'applicazione vi chiederà per forza di cose di attivare il GPS per un'accuratezza maggiore se non l'attivate non potrete far partire quella determinata attività andando avanti con l'ultima scheda troviamo profilo e il bello è che come accadeva per Mi Band 2 potete fare in modo fare sincronizzare i dati di Arc con ad esempio Google Fit dopodiché sempre su profilo sotto ai miei dispositivi e premendo, tappando su Amazfit Arc potrete andare a modificare una marea di altre opzioni ad esempio scegliere se vi arriverà una notifica una volta che riceverete una chiamata un SMS, le sveglie, un avviso di sedentarietà quindi quando state troppo tempo seduti per quanto riguarda avvisi applicazione come funziona sostanzialmente quando vi arriva una notifica sul telefono e la vostra Smart Band è collegata via Bluetooth appunto allo smartphone questa visualizzerà l'icona dell'applicazione sul piccolo schermino OLED monocromatico supporta però pochissime applicazioni solamente Facebook, Whatsapp, Telegram, Twitter e Gmail per tutte le altre visualizzerà un'icona generica e potete impostare manualmente quale applicazione può inviare notifiche anche alla Smart Band parliamo ora di autonomia l'autonomia dispone di una batteria da 70 mAh la stessa identica che troviamo su Mi Band 2 e quanto dura l'azienda dichiara 20 giorni ed effettivamente circa è così 17 giorni con tra l'altro il sensore del battito cardiaco che ha funzionato anche di notte quindi ogni tot fa una verifica del tuo battito per monitorare il tuo sonno leggero piuttosto che pesante quindi anche l'autonomia non lascia assolutamente a desiderare anzi e per la ricarica anche qui il metodo di ricarica è cambiato perché appunto con Mi Band 2 dovevate per forza di cose togliere la capsula dal cinturino per andare a ricaricarla invece cosa succede con Amazfit Arc? vedete questo cavetto da USB A a questo connettore magnetico a due pin che vi basterà semplicemente avvicinare il vostro dispositivo ecco fatto per andarlo a ricaricare molto più semplice molto più intuitivo molto più immediato per quanto riguarda invece la presa USB A questa la dovrete collegare ad un computer perché con gli adattatori per telefoni rischiate di danneggiare la batteria interna quindi la collegate ad esempio alla porta del vostro Mac alla porta del vostro portatile o quello che è e in un'ora e mezza sarà carica al 100% tiriamo dunque le somme questo dispositivo è assolutamente un passo in avanti soprattutto estetico e pratico diciamo rispetto alla precedente Mi Band 2 funzionalmente offrono le stesse identiche feature però troviamo un design sicuramente molto più accattivante è comunque un dispositivo secondo me assolutamente più premium però l'unica pecca è oltre al display che offre una luminosità inferiore anche questo cinturino che non è intercambiabile detto ciò lo potete acquistare al costo attuale di 31 euro sul sito italiano geekmall.it con spedizione dall'Italia garanzia a due anni italiana e assistenza italiana e potete utilizzare il nostro codice TECH5 per avere un piccolo sconticino sul prezzo finale che insomma non fa mai male quindi io ci farei un pensierino perché a questo prezzo è veramente un best buy un must have assolutamente quindi da Niccolò Cumerlato è tutto vi auguro un buon anno perché ormai il Natale è passato e noi ci si vede in un prossimo video mi raccomando commentate lasciate un like se vi è piaciuto e soprattutto iscrivetevi al nostro canale per non perderevi tutte le nostre nuove produzioni video un saluto ciao